durante l'impero romano la dea giunone aveva il tempio sopra il campidoglio il campidoglio era protetto dalle occhi era il suo animale sacro un giorno dall'esercito gaul è stata attaccata a roma ma non hanno potuto sfondare perché i soldati romani erano troppo forti e le mure erano troppo alte e i gauls non potevano sfondare per sette mesi le mure un giorno hanno trovato di spiare dietro la città e hanno salito alla collina nessuno è stato ferito quando hanno salito sopra la collina per entrare dentro la città i soldati hanno passato il tempo di giunone e le ocche spaventate dal rumore sonò ad alta voce avvertendo il soldato marcus manelus e lui ha corso a chiamare più soldati romani a sua volta sconfingendo il gauls ha salvato roma mi è piaciuta questa storia adriano mi è piaciuta questa storia adriano